Ancora una giornata drammatica per Piacenza, quella di ieri, sia per chi piange nuove vittime di questa pandemia globale, sia per chi ogni giorno spende la propria vita per salvare più persone possibile. È salito drammaticamente a 230 il bilancio dei decessi nella provincia di Piacenza legati all'epidemia coronavirus, mentre i contagiati piecentini sono saliti a 1.428, un balzo di 88 unità, un incremento che si attesta appena sotto il 7%, più contenuto rispetto a quello di altre province, ma ancora troppo alto, secondo il commissario dell'emergenza coronavirus Sergio Venturi, perché, dice, è su una zona già fortemente provata dalle ultime settimane. Il commissario ha anche insistito sulla necessità di assumersi ciascuno la responsabilità di osservare le limitazioni, un messaggio rivolto in modo particolare a quanti desiderano comunque uscire per fare jogging. Cosa deve ancora accadere perché chiunque si renda conto della responsabilità che ha? Cosa dobbiamo, cosa deve succedere oltre a avere centinaia di morti nelle nostre città perché qualcuno non si renda conto di quanto, se non fosse una tragedia, sarebbe ridicola la richiesta di continuare a fare le sue corsette? Perdonatemi, ma noi abbiamo bisogno di un'assunzione completa di responsabilità da parte di ognuno di noi. Oltre al rischio di contagiarsi e di contagiare altri, c'è anche quello di farsi male e aver bisogno dell'intervento del 118, che in queste settimane è impegnato a tempo pieno nelle chiamate di emergenza. Voi sapete che in una giornata a Piacenza e a Parma si sfiorano le 150 chiamate in urgenza per sospetto di Covid? Voi sapete che ci sono in ogni ambulanza due o tre persone che lavorano per ognuno e sono dedicate ad affrontare questa tragedia che ci sta capitando? E io sento ancora e vedo ancora delle persone che si lamentano perché non possono fare una corsetta di qualche chilometro. Venturi ha quindi rincarato la dose. Io davvero non posso credere che noi non ci rendiamo conto che o assumiamo comportamenti responsabili e stiamo nelle nostre case, oppure noi mettiamo in ginocchio il servizio sanitario di questa regione. Anche perché dovete sapere che se queste misure non bastano ce ne sono delle altre da prendere.